salve siamo qui oggi con matteo duraccio che ha fatto ci vuoi dire un poco si è giocato l'anziano saggio due stavoli 3 stavoli 3 stavoli ma sa vedete al nostro 3 3 3 3 nono troppo forte Poi Lissia, 3, 3, 2, abbastanza standard, poi se non è così niente più 3 perdono, Forming, Instant, 2 Scream Perché non 3? 3 non mi piace, non mi piace, non mi piace, ma 2 giusto e 2 Salick Ok Per finire, 3 fermo, 41 Come ti sei trovato con le fermo? Troppo forte Andiamo va 3, 60 Cambiare qualcosa da me? No Andiamo con l'extra Le sue fusioni, 1, 2 e 3, parla di Espirito Santo Garuro è troppo forte, chi lo cazzo non lo so Un greco è troppo forte, questo è troppo forte Duelle, v2, Baguschi, Zio Zex, Bea, Wall Perché non hai giocato X-Aidon? È più forte che questo, è più forte, è più forte, è più forte Lo picchiamo La goccia che fa traboccare il vaso Uno sprint Perché non due sprint? Perché dove ne giova due sprint? Momenti di terrore Sono video, sono più bacini che profile Due sprint non hanno senso, non gioco Sì, per la prossima vez La risa? Capo di script Capo di stop La side? La side? Questa è un po' più spicy, forse 3 Troppo forte Ma hai fatto? Troppo forte Perché non di main? Di main non sono così forti quanto in side Perché anche se prendi miller Non è detto che giocano obbligatoriamente 8-9 bestial Quindi a volte risulta gialla Soprattutto se non si riescono a mille Oppure vederne 2 giallo 3 di queste Spratti è un problema Se ti fa tripla trotti Svolverino Si mette in contro tutti i maschi A giocano shift Si tirano shift Tutti i di questo E con c'è E in modo di questo Troppo forte Puoi fare qualche ringraziamento? Ringrazio tutti i miei amici di Napoli Qualche commento su Gianni Barone? No, Gianni Barone è un buon ex giocatore di più che io Però prima o poi si riprenderà Ha bisogno solo di un po' di impegno Ma prima o poi ritornerà quello di una volta Ringrazio Nino Che è Gravity Card Gaming? No, l'ex Gravity Card Gaming E la felpa della DCG? Questa è la stessa felpa della Top Adolf È lavata, spero? No Grazie a tutti